Una transenna sistemata all'ingresso di via Porta, proprio di fronte al comune, avverte dell'interruzione della strada. Nella mattinata di lunedì alcuni calcinacci sono caduti dalla torre Belcredi, uno dei simboli della città. L'amministrazione del Mezzabarba ha disposto immediatamente la chiusura della via con la sistemazione di alcune transenne in diversi punti di via Porta e nelle zone adiacenti alla torre di 60 metri. Al momento il transito è concesso solamente alle automobili dei residenti. Non è chiara l'origine di questa nuova caduta. In quest'ora infatti i tecnici sono al lavoro per stabilire con certezza le cause del distaccamento dei calcinacci dall'antica torre medievale, che con i suoi 60 metri è la più alta del capoluogo. Non si tratta però di un fatto isolato. Negli ultimi anni, in più di una circostanza, si sono registrate cadute di calcinacci e tegole dalla torre. La procedura in case simili è sempre la medesima chiusura della strada da parte della polizia locale e verifiche tecniche sulla struttura.